un altro mattoncino un altro mattoncino è stato messo e quello di stasera un altro mattoncino importante che innalza una casa sempre più più solita più solita perché poi spesso si parla del giorno la buttano tutti la sul gioco il gioco il gioco la proposta il calcio i campionati i campionati si vincono che l'inter abbia vinto il campionato attenzione ma i campionati si vincono con la solidità e al momento di tutte le squadre in lista la squadra più solida al momento l'inter un'altra partita dove magari non c'è stato un grande ritmo non c'è stata una grande intensità non c'è stato un grande gioco anzi sembrava in debito di energia l'inter sembrava veramente in debito credo che lo era più che sembrava visto visto le altre visto le rivali oggi i vari pari del passo falso del Milan della Juve e ti aspetti che è anche lì invece e invece no il golletto il gol che poi è l'ennesimo gol di Lukaku che non segnerà con le bic che non segnerà con le bic ma se mi fai l'uno a zero contro il Bologna sapete quanto mi vale mi vale comunque tre punti quindi io me lo prendo alla grandissima il gol di Lukaku così come mi prendo bellissimo assist di bastoni che conosce alla perfezione il suo ruolo e in quel ruolo là no in quel ruolo là nei tre difensivi nella fase di impostazione oltre che quella difensiva è diventato maestro è diventato un giocatore in più alla grande così e baldi che vi devo di baldi giovani che vi devo di che vi devo di è difficile difficile mi fa mi fate passare la Pasqua sereno eh non ci sono abituato non ci sono abituato non ci sono abituato non ci sono abituato e bello 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 perché poi comunque c'è una squadra che continua l'ho detto prima la parola solidità e sacrificio e se devo parlare di sacrificio devo parlare di Lautaro Martinez stasera magari molti non ne parleranno o in magari parlo di giornalisti no osservatori ma la gara di Lautaro Martinez secondo me è stata fantastica direto ma sì il tiro il palo no no lascia stare su tutti i palloni cioè si è sfiancato si è dimenato a destra a sinistra fateci caso su tutti i palloni e il giocatore in più in fase difensiva e queste cose appunto nell'economia della solidità di cui parlavamo prima queste fanno la differenza queste fanno la differenza quindi Lautaro Martinez mi va anche bene che non segna tipo stasera no ma hai fatto un lavoro disumano che a mio modo di vedere comunque tra lo colloca tra i migliori grandissima prestazione di Lautaro bravo Ranottia che quelle poche volte che viene chiamato in causa risponde presente bravo Ranottia bravo 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 le partite si devo vincere così specialmente in questi momenti dove le squadre vengono dall'inizio le partite si devo vincere così si deve vincere c'è poco da dire c'è poco da quello di quello di quello di chi quello di duara che che è l'unico che veramente mi ha dato pensieri mi ha dato noia di uguale mi voleva far passare una pasqua triste di uguale già l'anno scorso ci aveva messo del suo e mamma mia ne sa qualcosa questa scrivania ne sa qualcosa di uguale e stasera anche nel finale in tribolazione mi ha fatto stare tribolante mamma mia ma però abbiamo retto portiamo a casa tre punti d'oro altri tre punti d'oro altri tre punti importanti e ancora una volta bene bene così bravi bravi e uso le parole del mister che io spesso critico ma quando c'è da criticare si critica quando c'è da elogiare si elogia uso le parole del mister ancora una volta zitti zitti adesso più che mai zitti e pedalare zitti e pedalare un altro nome che devo fare quello di barella scusate perché poi barella gioco ovunque ogni partita sempre e comunque e anche stasera tra quelli che hanno corso corso di più e poi tatuaggio di brozovic a parte che è l'unica cosa che forse ha stonato stasera ha stonato stasera che dovevo dire che dovevo fare le diffide purtroppo salteranno la prossima bastoni e brozo appunto pazienza pazienza andiamo avanti andiamo avanti così le uniche note negative se vogliamo sugli esterni non mi sono piaciuti né akimi e né young young vabbè in quest'anno ha impiegato anche poco quelle poche volte non ha fatto benino una stagione un pochettino sotto tono e dico pochettino per essere buono quella di young akimi oggi no poca tutta la giornata no non è che per forza non è che uno ti deve crocifiggere perché da già però oggi non è stato un grandissimo akimi balti fatemi sapere cosa ne pensate voi io vi aspetto in live sul secondo canale fuori gioco quindi mi raccomando link in descrizione e andiamo a parlare bene così bene bene così un grande abbraccio da rischio ciao 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 ciao